Una legge che mira a dettare nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio in armonia e coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione. Così il capogruppo del Popolo della Libertà, Forza Italia, Michele Napoli, ha spiegato il senso della proposta di legge illustrata oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il consigliere Castelluccio. La legge regionale 21 del 1979 è ormai obsoleta e bisogna cambiarla, ha spiegato Napoli. Efficientamento dell'edilizia scolastica, migliore qualità dell'offerta educativa, prevenendo la dispersione scolastica, integrazione dei disabili e allievi con disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, nonché degli ospedalizzati, stranieri e soggetti in stato di detenzione. Questi, in sintesi, gli obiettivi della proposta di legge, alla cui stesura ha collaborato la professoressa Raffaella Arcieri. Noi purtroppo ci siamo dovuti confrontare con una legge regionale del diritto allo studio che è molto datata e del 79. E questa legge quindi non è più in grado di rispondere alle mutate esigenze del territorio e della popolazione scolastica con la quale noi giornalmente ci confrontiamo. È inadeguata addirittura anche dal punto di vista terminologico, perché chi vive la scuola deve confrontarsi quotidianamente anche con una serie di sigle, DSA, BES, disturbi specifici dell'apprendimento, sono tutte quante dizioni che sono venute successivamente. E invece questa legge del 79 parla genericamente ad esempio di disabilità. L'altra difficoltà che non tiene conto è delle mutate esigenze del territorio. Nel 79 la Basilicata ancora non si confrontava ad esempio con i fenomeni dell'immigrazione, che sono purtroppo oggi una realtà. E noi dobbiamo prenderne atto. E questi ragazzi minorenni, e ne sono tanti, che vivono qui in Basilicata, non devono essere ghettizzati, isolati in un centro. Tanto più che la stessa normativa nazionale che prevede il loro immediato inserimento nelle strutture scolastiche. Previsti la Carta della Cultura e lo Sportello dei Cittadini, il Comitato Permanente per il Coordinamento fra gli Assessori e un Tavolo Permanente. Il Piano Triennale per il Diritto allo Studio sarà approvato in Consiglio regionale e si prevede l'istituzione di una clausola valutativa.